quante volte ti sei lamentato col tuo commercerista perché paghi troppe imposte sicuramente tantissime voglio dirti una cosa però non sono tante le imposte che paghi e poca la pianificazione fiscale che fai con questo video voglio spiegarti cosa intendo per pianificazione fiscale ossia per quell'insieme di attività che ti devono rendere consapevole di quello che andrei a pagare di imposte da lì a un anno potrà sembrare sciocco ma la prima cosa che tu devi fare è avere un ottimo rapporto con il tuo commercialista devi passare a trovarlo non dico tutti i giorni non dico tutte le settimane ma almeno una volta al mese una volta ogni due mesi perché se passa troppo tempo la domanda che avevi in testa non gliela fai e probabilmente questo si tradurrà di lì a un anno in maggiori imposte pagate la seconda cosa che tu devi fare è assolutamente confrontarti con il tuo commercialista in merito a tutte le tue spese ricorda ci sono spese inerenti che possono essere dedotte dal reddito e quindi vanno a ridurre le tue imposte e spese non inerenti che non possono essere dedotte dal reddito e quindi nulla influiscono sulla diminuzione delle tue imposte chi meglio del tuo commercialista può capire se quella singola spesa sia o meno inerente nessuno avere un rapporto continuo col tuo commercialista ti permetterà tra le altre di capire se alcune delle tue spese che tu non avevi valutato come inerenti e quindi come valevoli al fine della tua contabilità e quindi valevoli al fine della riduzione del tuo reddito possono essere meno utilizzabili per esempio hai l'ufficio a casa ti sei mai domandato se l'affitto di quell'ufficio posso o meno essere considerato come spesa a riduzione del tuo reddito fiscale oppure le bollette dello stesso ufficio appartamento ti sei mai domandato se possono essere portate a deduzione dei tuoi ricavi se non ti confronti col tuo commercialista in maniera continuativa queste cose non emergeranno mai terzo suggerimento che mi sento di darti è quello di fissare delle riunioni periodiche con il tuo commercialista fissa degli incontri volti a capire a comprendere quale sia il tuo reddito in quel momento ossia ricavi meno costi quanto stai guadagnando in quel momento e da lì alla fine dell'anno come evolverà questo utile come evolverà questo guadagno e quindi come inciderà questo guadagno sulle imposte che andrai a pagare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ora a mio modo di vedere il momento migliore per incontrare il tuo commercialista non è da marzo a giugno oramai i giochi sono fatti ma è da settembre a dicembre dell'anno precedente quindi da settembre a dicembre si possono effettuare tutti i calcoli e gli aggiustamenti in relazione al reddito e alle imposte che andrai a pagare da giugno dell'anno successivo si insistente da questo punto di vista incontrare il tuo professionista da settembre a novembre può essere un vantaggio competitivo per la tua impresa chiudo rispondendo una domanda frequente non è corretto che tu chieda al tuo commercialista di pagare il minor ammontare possibile delle imposte pensaci se paghi poche imposte pagherai anche pochi contributi e se pagherai pochi contributi vuol dire che un domani non avrai una pensione degna certo è giusto vivere nell'oggi ma bisogna sempre avere un occhio al domani che verrà ti è piaciuto questo video iscriviti al nostro canale youtube e segui gli aggiornamenti sul sito